buongiorno buongiorno e forza ragazzi allora eccoci qua parliamo ovviamente della partita con la p maiuscola per firenze quella aspettiamo quella che a volte risolve un campionato disastroso quella che ci fa parlare anche negli anni eventualmente di una vittoria viola quanti di noi ancora oggi vanno a vedere il 2 a 1 firmato da sala in coppa italia quanti di noi vanno a vedere il 4 a 2 firmato da giuseppe rossi e quanti di noi ancora oggi vanno a vedere il 3 a 0 proprio firmato dalla dalla grida la grande sinfonia di cesare prendelli proprio nel penultimo campionato appena passato e quanti di noi ancora vanno oggi a vedere i gol di batistuta di olivera insomma quanti di noi vanno a vedere ancora quelle vecchie gioie che ci portiamo dietro eccoci qua questo è juventus fiorentina per firenze per noi tifosi viola e ovviamente non potevo che non indossare la nuova maglia della fiorentina che ho presentato qualche giorno fa nel nuovo video unboxing grazie alla collaborazione degli amici di www.checalcio.com ma ovviamente non potevo non esserci perché ho detto io in questa partita ci devo essere perché non posso non esserci e quindi ragazzi lo vedete alla copertina l'ho detto anche ieri tra l'altro ieri sera su instagram o anche mi sono anche tra virgolette scusato perché doveva uscire ieri questo video invece esce questa mattina proprio nel pre nel pre partita perché cominciamo già a saporare alle ore 18 scenderà in campo la juventus contro la fiorentina ma io ci sarò sarò qui per chi vorrà essere in compagnia mia mister viola torna in live torna in live di mister viola qua su youtube per il match clou il match più importante per firenze ripeto il match con la m grande la partita con la p di grande di partita perché per firenze juventus fiorentino non è mai una semplice partita non è mai una classica partita o meglio è la classica partita che firenze aspetta quindi se vi va ragazzi mi raccomando attivate la campanella così non perdete la notifica ma segnatevelo ci sarà anche il countdown su instagram ovviamente ve lo ricorderò anche perché è scritto sul mio gruppo di facebook quindi mi approfitto anche per invitarvi a iscrivervi a lasciare tanti like a commentare questo video perché voglio sapere come vi state mentalmente preparando per questa partita state facendo degli scongiuri avete degli scongiuri in particolare non lo so mettete la solita maglietta toccate una sciarpa mettete una tazza in un modo piuttosto che un altro non lo so se siete scaramatici scrivetemelo in questo video ovviamente perché io sarò con voi in live alle 17 50 massimo 55 5 minuti di prepartita leggeremo insieme le formazioni ufficiali del match e poi ci addentreremo in questa bellissima cronaca live di juventus fiorentina quindi mi raccomando non mancate detto questo come sempre ve l'ho già chiesto se non l'avete già fatto ma se soltanto se vi va iscrivetevi e lasciate un bel like ovviamente ragazzi trovate tutti i link in descrizione ripeto degli amici di occhialccio.com e dei miei shop online instagram facebook e compagnia bella detto questo ragazzi vi aspetto oggi in live quindi diciamo questa è la postazione che sarà quindi non faccio altro che spengere poi la riattiverò ovviamente ci sarà anche il video pre lancio su youtube quindi preparerò tutto in giornata però andiamo a parlare di juventus fiorentina perché perché ieri ha parlato anche vincenzo italiano ha detto che la juventus è sempre la juventus quindi è un po il concetto che ho anche io ragazzi non so qual è il vostro concetto ma la juventus è sempre la juventus che giochi male o che perda è sempre una partita difficile è sempre una squadra difficile da affrontare tanti ex tanti ex da chiesa quadrato ovviamente anche a giorgio chiellini è comunque un ex viola e è una partita che nasconde delle insidie perché perché la juventus si esalta molto spesso quando affronta squadre che in qualche modo debbano essere temute in questo momento ragazzi la fiorentina è una squadra che va temuta è una squadra che non viene sottovalutata da nessun da nessun avversario attualmente il trend della fiorentina contro le grandi a parte tolta l'atalanta che a inizio campionato non stava rispettando proprio le attese di questa grande squadra comunque negli ultimi 6 7 anni ci sta facendo vedere grandi cose la fiorentina purtroppo è sempre uscita sconfitta beh c'è sempre un'eccezione alla regola no c'è sempre quell'eccezione alla regola quindi perché no perché non provare andare a torino la juventus stadium e provare a portar via punti importanti contro una squadra che comunque rimane ancora ad oggi una delle squadre più forti del campionato italiano diciamo affrontiamo ho letto un articolo affrontiamo la la peggior squadra in questo momento delle sette che sono là davanti tra virgolette o che comunque fanno un campionato diverso dalle altre e noi siamo la migliore di quelle invece della seconda parte del campionato di tutte quelle squadre che di tra virgolette possono ambire un posizione in europa ma non ci entrano di diritto data lui data la recente storia quindi diciamo che si affrontano due squadre in cui la fiorentina ha dimostrato di potersela giocare con tutti e che quando impone il proprio gioco mette in difficoltà un po tutti allo stesso tempo però una squadra che subisce gole molto spesso fa fatica a recuperare quel gol subito o molto spesso riesce ad andare in vantaggio però poi un po si perde e alla fine ne esce sconfitta contro ripeto le grandi tante frecce all'arco per quanto riguarda juventus è inutile parla dell'ex chiesa che vorrà sicuramente brillare da dibala che è tornato veramente un grande anche contro lo zenith morata che comunque sempre morata ragazzi un centrocampio importante una difesa quella della juventus che ci ha abituato ad essere una difesa della nazionale italiana quindi è una squadra difficile da affrontare e poi ovviamente le frecce come quadrato la velocità è quello che volete la fiorentina dal canto suo però diciamo a parte nico gonzale che è un'assenza non non diciamo ininfluente perché è un'assenza pesante la davanti è una fiorentina che grazie alla rotazione che io anche un po criticato soprattutto in fase difensiva però grazie alla rotazione che vincente italiano ha sempre dato in queste giornate di campionato è una squadra che non ha 11 titolari e quegli altri non hanno mai assaporato il campo più o meno tutti hanno giocato chi contro le grandi chi per qualche spezzone chi ha giocato di più degli altri ma più o meno tutti quanti hanno giocato a parte qualche elemento quindi è una rosa che non si appresta a avere difficoltà a sopperire all'assenza più o meno di un calciatore quindi questo è sicuramente importante però in difesa mi auguro che ci sarà quarta milenkovic che attualmente è la coppia secondo me che staranno più frutti positivi ditemi anche la vostra per quanto riguarda il comparto difensivo dal diciamo dalle corsie viraghi e sarà il titolare ed è presente onnipresente in questa formazione viola dall'altra parte un ballottaggio tra venuti odio di zona credo che attualmente lo spagnolo sia in vantaggio di lollo venuti credo anche per un discorso di esperienza e anche forse un discorso di velocità in cui odio di zona riesce a fare in maniera molto positiva quando ovviamente è in giornata lente le due fasi di attacco e di difesa rispetto avevano lo venuti che secondo me è più diciamo propenso a una difesa quindi a essere molto più difensivo rispetto di ruzola che la alla gamba veloce quindi va attenzione che sulla stessa fascia secondo me in questo momento credo che sia in vantaggio cai e con dall'altra parte dovrebbe sedere sottile e dovrebbe giocare saponara queste sono le mie sensazioni ma non mi sorprenderebbe di vedere saponara e sottile titolari in campo e cai con in panchina con blauvic e ora parleremo anche di blauvic là davanti un centrocampo dove ovviamente torreira si appresta a riprendere le chiavi del centrocampo con buonaventura che è imprescindibile in questo momento se la giocano in tre tamarabat duncan e ovviamente il nostro buon castrovilli che fa fatica però ad essere quel numero 10 pesante a centrocampo anche dovuto all'infortuna e comunque piano piano lo sta riportando in condizioni credo che in vantaggio si sia duncan perché credo che c'è bisogno di muscoli a centrocampo abbiamo già un torreira un buonaventura che mettono estro fantasia e qualità di piede credo che un duncan a interdire il gioco avversario comunque a spezzare un po il gioco avversario ce ne sia bisogno quindi io la vedo un po così questa formazione viola ditemi anche la vostra quello che mi auguro però è che scenda in campo una formazione che abbia voglia di mangiare l'avversario perché italiano l'ha detto so cosa significa questa partita per firenze e per i fiorentini e quindi so che è una partita che scrive una grande pagina di storia del calcio fiorentino per chi siede in panchina e quindi voglio essere ovviamente protagonista però devo ovviamente essere attento anche all'avversario perché non va sottovalutato è un avversario che se è in giornata ti mette in difficoltà in tutti i reparti di campo quindi sarà una bellissima partita se la fiorentina la giocherà a viso aperto e metterà pressione a juventus perché ho visto una juventus che va sotto pressione quando l'avversario gli mette pressione è una juventus che molto spesso sta molto dietro e poche volte riesce ad andare avanti e farmare l'avversario ma ci deve essere veramente un 90 minuti martellanti in continuazione gli devi sbuccare da tutti gli ancoli devi vincere i contrasti devi andare sulle seconde pale sarà una partita di grande dispendio energetico anche perché dopo ci sarà la sosta quindi c'è bisogno veramente di spremere fino all'ultima energia uscire con la maglia viola sudata sudata veramente di impegno sul caso blaovic allora è una partita importante io mi concentrerei sulla partita però è ovvio che la domanda su blaovic ci sarà forse ci sarà anche in live e quindi vi risponderò molto volentieri cosa è successo allora c'è chi dice che commesso si è fatto l'autogol quello che volete allora contiene al tottena e ha già messo sulla lista dei paratici blaovic quindi il tottena è veramente interessato a blaovic forse non tanto per gennaio ma più che altro per giugno e ci sta comunque di trascinare il calciatore fino a giugno però a gennaio devi acquistare il nuovo attaccante viola perché poi ci deve essere la passare di consegno però c'è che la fiorentina è stata avvistata a londra ma la fiorentina è stata avvistata è stata anche in contatto meglio è in contatto stretto con i gunner cioè con l'arsenal che sarebbe quasi disposta a gennaio a fare una mega offerta di 80 milioni di euro compresi bonus attenzione sembra che l'arsena gli vada bene questa cosa sarebbero sicuramente forse 60 milioni cash sicuramente forse pagabile in due tranche più 20 di bonus sarebbe un bottino oro per un calciatore che ha già fatto sapere di non voler rinnovare ma attenzione blaovic o meglio l'entourage di blaovic non ha dato risposta a questo non ha dato a seguito la fiorentina gli ha messo il contratto e la proposta in mano dell'arsena non c'è risposta dall'altro lato perché sembra che l'entourage il calciatore abbia un accordo già con un'altra squadra non si è ben capito se ancora l'offerta dell'atletico madrid da 60 milioni o ci sia di mezzo la juventus però io vi voglio fare un discorso molto logico c'è un fair play finanziario che comunque è presente ci sono dei budget e delle e delle linee di dispesa delle squadre la juventus attualmente ragazzi chiuderà l'anno 2021 questo io non sono tifoso della juve ma sono dati chiuderà l'anno con un rosso in bilancio di 220 milioni di euro è secondo me impensabile che la juventus possa permettersi di acquistare un altro calciatore da 60 70 milioni nella sessione anche estiva o addirittura attendere questi due anni questo anno e mezzo in cui ragazzo andrà in scadenza perché la fiorentina a quel punto ovvio prenderà l'attaccante sostituto lo metterà in tribuna e questo non giocherà per un anno e mezzo è controproducente sia per il calciatore che non solo va a perdere di valore ma va a perdere anche di campo cioè un giocatore che non gioca per un anno e mezzo e non è poi facile reintegrarsi in quello che è il concetto di 90 minuti di gioco contro un avversario quindi la juventus per quanto mi riguarda è tagliata fuori cioè non c'è proprio margini anche perché la juve dovrà dare 40 milioni di parte fissa ancora li deve ancora dare la juventus alla fiorentina più 10 di bonus che verranno dati perché comunque i bonus chiesa e a rispettare tutti quindi la fiorentina deve incassare un totale di 50 milioni ancora dalla juventus quindi ragionate con questi 50 milioni che arrivano dalla juve più questi 60 70 milioni che arrivano per blau c'è la fiorentina ha in mano un bottino di 120 130 milioni di euro che sono sicuro che a sto giro comisso barone pradè burdisso andranno a reinvestire in modo intelligente dando a italiano quei giocatori fondamentali per alzare l'asticella sono sicurissimo di questo ragazzi quindi fiducia nella società io so anche che la colpa non è del tutto di blauvic ho avuto delle informazioni in cui è più che altro la riconoscenza di blauvic che ha verso la sua agenzia di calciatori che per tanti anni ha salvato la famiglia di bravo quindi blauvic si trova nel mezzo a dire a me piacerebbe anche rimanere a firenze ma io devo tanto a questa agenzia che mi ha fatto arrivare dove sono è un po un discorso molto ampio e l'agenzia ci vuole guadagnare su questo ragazzo perché l'obiettivo è quello io ti ho dato una mano in passato ora tu mi fai guadagnare non voglio dire che è una sorta di ricatto è il gioco del calcio questo è quindi non arrabbiamoci troppo con blauvic che secondo me è un po non voglio dire la vittima però è un po messo nel mezzo ma non arrabbiamoci neanche nella società che è uscita allo scoperto dicendo poi facendo sorgere alla luce quelle che sono un po le problematiche del calcio di oggi cioè delle maxi diciamo commissioni che ci sono nel mondo dei procuratori quindi però questa è un'altra storia io ve lo ripeto ragazzi io la lascio così la telecamera non ci farò tanti cambiamenti la metto in pausa e poi la rimetterò in play alle 17 e 50 vi aspetto numerosi condividete questo video ragazzi perché più insieme più siamo e meglio è per tifare insieme la fiorentina col nuovo stemma con la nuova voglia con un italiano in panchina con la fiorentina che può dire la sua ragazzi vi aspetto oggi alle 17 e 50 per vivere insieme la cronaca live del vostro amico tifoso e appassionato mister viola insieme su youtube mi raccomando non mancate ciao e forza viola